Allo spettacolo musicale, ho apprezzato tanto i suoi complimenti che sono pazzi per tutti quanti noi ma a questo punto, ultimo brano però, questa volta, l'ultimo brano di cantare con me non posso chiedervi di salire tutti sul parco, ho potuto fare con loro, due persone però promettetemi che di là, seduti, giù in platea, canterete ma a squarciagola con noi, questo fatidico brano, maestro Paolo, siamo pronti? Allora, vai! 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 l c Resta aiuto in esero, resta aiuta La gabbaccia, la gabbaccia Aiuta, vuoi tornare, vuoi paruta Sada il bacà, sada il bacà Agà, ma buona, 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 buona Aburna a te, aburna a te Buona, 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 buona Sp strildo l'ai, back hurts Buona, 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 buona Cabra Vera, buona, buona, buona Resta aiuto... Raptor à te, aburna, buona, buona Non spiegare me la volevole, volevole, volevole. Non spiegare me la volevole, volevole, volevole. Non spiegare me la, non spiegare me la, non spiegare me la volevole, volevole. ...Volì, volà! Grazie! Ragazzi, vorrei venire tutti qua. perché vorrei che metti per mano a tutti eccoli qua non riesco da passare per i cavi chi ce la fa? eccoli qua vedete ragazzi? ancora grazie perdonateci perdonateci per quello che è successo inizialmente ma lo ripeteremo grazie grazie veramente veramente è stata una magnifica serata grazie ciao ragazzi ciao e che direi spieghiamo quindi di trovarci ancora una volta ci ritorneremo e stavolta con il bel taglio continuante ciao e buonanotte buongiorno voglio fare un saluto e una cosa un po' seria è vero che non è per i miei consumi però stavolta ci devo io questo spettacolo questa sera da parte l'hai dedicato a solo scambio no lo voglio dedicare no io intorno a questo vestire adesso prima voce a tempo pieno adesso lo faccio liberamente adesso faccio l'autista questo spettacolo lo voglio dedicare a un mio amico che purtroppo il servizio è finito Ezio De Cinco ok allora grazie 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 e arrivederci alla prossima buonanotte ciao guardate la Castagli grazie a tutti grazie a tutti